Siete un creatore potente, riprendetevi il vostro potere. Ciao a tutti. Questo post vuole aiutarvi a capire che siete il creatore di tutto ciò che è, che siete il creatore della vostra realtà. Per aiutarvi a riprendervi il potere di essere una vittima, di credere di essere una vittima del mondo esterno, una vittima delle altre persone, una vittima di tutto e per aiutarvi a realizzare veramente che avete il controllo della vostra vita, che avete il controllo di tutto nella vostra esperienza, che siete un potente creatore. Una comprensione cruciale che vi aiuterà a saperne di più e ad essere più efficienti nel creare la vostra realtà esterna, è la comprensione che non siete un corpo, o meglio, non siete una mente intrappolata in un corpo intrappolato in un mondo esterno. Tu sei coscienza consapevolezza. Il tuo corpo, la tua mente, il mondo esterno, sono solo una proiezione della tua consapevolezza, della tua energia. Quando sapete che non siete intrappolati in un mondo, che non siete intrappolati in una mente o in un corpo. Sì, riacquistate il vostro potere. Capite che tutto ciò che è fuori ha una proiezione della vostra energia e che le vostre intenzioni, i vostri desideri, i vostri pensieri e le vostre convinzioni hanno un grande potere nel creare tutto nella vostra vita. Infatti, tutto ciò che vedete, che avete sperimentato e che sperimenterete nella vostra vita è una vostra creazione o è stato creato da voi. Mentre parliamo state creando queste parole, state creando lo schermo, state creando il pavimento che vi sostiene, create tutto con la vostra coscienza, con la vostra consapevolezza. Questo è un enorme cambiamento di percezione, la percezione di voi che siete consapevolezza, siete energia e create la vostra realtà esterna con quel flusso energetico. Voglio che comprendiate veramente che non c'è nulla al di fuori di voi e che nulla ha potere su di voi. Intendo letteralmente nulla, non l'ambiente che vi circonda, non il luogo in cui vivete, non il vostro passato, non le vostre convinzioni, non i vostri pensieri, non il vostro governo. Non il paese in cui siete nati, non il colore della vostra pelle, nessuno dei vostri beni, né il denaro che avete o che non avete in banca. Niente ha potere su di voi. Siete voi a generare tutto, a creare tutto, a creare interi mondi con la vostra consapevolezza. Una bella consapevolezza che voglio risvegliare in voi è che nulla al di fuori di voi, nulla di ciò che avete sperimentato ha o ha avuto potere su di voi. Voi siete e siete sempre stati il creatore di tutto. Guardate alla vostra vita, alla vostra realtà e capirete che non siete al punto di ricevere le esperienze, ma che in realtà siete al punto di creare le esperienze e il vostro corpo e ciò che sperimentate è solo un granello di polvere e di ciò che state creando tutto il tempo con la vostra energia di consapevolezza. Quando diventate consapevoli di questo, potete iniziare a creare ciò che volete creare, potete iniziare a scegliere ciò che volete scegliere. La comprensione cruciale, la realizzazione cruciale è che dovete sentirvi potenti, dovete capire veramente che non c'è nulla al di fuori di voi, che siete voi a creare tutto. Come ho detto, state creando queste parole proprio ora, state creando questo post, state creando questo messaggio per voi. Ecco quanto siete potenti. Quindi, siete voi a creare tutto ciò che vi circonda e ora che ne siete consapevoli potete crearlo nel modo che preferite. Quindi, se non siete i vostri pensieri, se non siete le vostre convinzioni, se il mondo esterno è solo un'estensione, una proiezione della vostra energia e si sposta quando voi cambiate, quando voi cambiate il mondo cambia. Ti potrebbe interessare anche, chi sei? Sei il creatore della tua realtà. Potete cambiare dentro di voi, potete cambiare voi stessi, potete cambiare ciò in cui credete, potete cambiare ciò che pensate e potete cambiare le cose su cui ponete la vostra attenzione perché la vostra attenzione, il vostro focus, la vostra energia creeranno la vita che vivrete e creeranno le vostre esperienze. Diventate consapevoli che siete potenti. Camminate quotidianamente nella vostra vita consapevoli che tutto ciò che vedete all'esterno viene creato da voi in ogni secondo. Tutto viene creato per voi, da voi, per voi e non con il vostro corpo, non con la vostra mente, ma con la vostra energia, con la vostra frequenza vibrazionale, con la vostra consapevolezza. Potete gestirla, potete gestire la vostra frequenza, potete gestire la vostra energia, potete gestire le vostre intenzioni. Iniziate a scegliere consapevolmente i pensieri che volete scegliere, è semplicissimo, iniziate a sentire consapevolmente come volete sentirvi. Sì, potete usare i pensieri per creare sensazioni e stati d'animo. Se volete sperimentare l'amore, iniziate a immaginare l'amore, a pensare all'amore e arriverete a un punto in cui non avrete più bisogno di pensare, in cui potrete sentire automaticamente l'amore. Allo stesso modo in cui potete sentire automaticamente la pace, potete sentire automaticamente la felicità, o la gioia, o la libertà, perché non c'è nulla al di fuori, non c'è nessun sentimento o stato d'essere al di fuori di voi e potete scegliere, sono disponibili per voi. Quando vibrate con quell'energia, quando vibrate con quell'intenzione, creerete la vostra realtà in quel modo perché, ancora una volta, non c'è un mondo fuori, non c'è un mondo fuori di voi. Ti potrebbe interessare anche, legge di attrazione, semplice e facile. Quindi, chi siete e cosa scegliete, il mondo lo rifletterà su di voi. È così semplice. E, quando diventerete consapevoli di essere potenti, smetterete di vivere la vita che non fa per voi, smetterete di sentirvi vittime. Smetterete di sentirvi vittime del vostro lavoro, delle relazioni che avete, ecc. Smetterete del tutto di essere vittime. Non potete essere creatori e vittime allo stesso tempo, non potete essere potenti e impotenti allo stesso tempo. Quando vi renderete conto che non c'è nulla al di fuori di voi e che siete potenti, tutti gli schemi vittimistici che avete si sgretoleranno e questa è una delle cose più sorprendenti che accadranno nella vostra vita. Ti potrebbe interessare anche, trasformare e trascendere le credenze negative. Vi invito a iniziare a scegliere consapevolmente le cose che preferite vivere all'interno, con la consapevolezza che scegliendole all'interno si rifletteranno nel vostro mondo esterno, semplicemente perché è così che funziona la realtà, la realtà esterna è solo un'estensione della vostra energia, è solo una vostra proiezione. Quando vi spostate, la realtà si sposta perché la realtà è solo il vostro riflesso. Se vi mettete davanti a uno specchio e sorridete, lo specchio vi sorriderà a sua volta, ma non aspettatevi che lo specchio sorrida se voi non sorridete. Quindi. Scegliete i vostri pensieri, scegliete il vostro stato d'animo, decidete, sentitevi potenti e sappiate che siete voi a creare le vostre esperienze. Camminate nella vostra vita quotidiana sapendo che nulla di ciò che accade al di fuori di voi è casuale e che le cose accadono perché siete voi a crearle. Siete un creatore molto potente. Siete il creatore di tutto e nulla di ciò che create vi sovrasta in quanto creatore. Incarnate il vostro potere.